Buon salve a tutti, io sono Roberta e buona festa di San Patrizio. Oggi gli irlandesi si danno alla pazza gioia perché il cristianesimo, secoli e secoli orsuno, venne portato proprio da questo santo nella loro terra. E quindi oggi si celebra col verde, per questo ho la maglietta di Midoria Midoria, a dirsi voglia, e si sbronzano come, non lo so, cammelli, non so quale metafora usare. Negli USA ci sono spesso le parate, ma col coronavirus, spero che non se ne facciano sinceramente, ma comunque oggi non mi interessa parlare della festa di San Patrizio in sé e per sé, quello che mi interessa è parlare delle origini di questa festa che hanno, propria sorpresa, radici pagane. Infatti intorno al 17 marzo a Roma si festeggiavano i Liberalia, che avevano un duplice scopo. Il primo scopo era quello di festeggiare il dio Liber, che era una divinità agreste, sostanzialmente molto simile a Bacco e quindi al Dioniso greco. Insomma, un po' un casino, sono tutte divinità che si assomigliano ma non sono la stessa cosa. Questo dio, fra l'altro, era sposato alla controparte femminile, che si chiama Libera o Liberia, dipende dalle traduzioni, che spesso viene associata a Proserpina e quindi a Persefone e come fa questo dio che assomiglia a Bacco ad essere sposato con Proserpina, non lo so, ma non ce lo vogliamo chiedere. Cosa proteggeva questo dio agreste? I campi, il lavoro nei campi, per questo tutti gli agricoltori in quella giornata stavano fermi a festeggiare, ma soprattutto Liber era il dio della vendemmia, quindi proteggeva il vino e così gli agricoltori, per festeggiarlo oltre al riposo, si sbronzavano e da qui viene la tradizione dello sbronzarsi nel giorno di San Patrizio. Un'altra tradizione che c'era in questo giorno dedicato a Liber era il passaggio dell'età adulta dei ragazzini di Roma, che infatti ai 16 anni aspettavano questo giorno per fare i rituali di passaggio. Come prima cosa, mettevano sull'altare dei propri avi la bulla, che era una catenina di cuoio se eri povero, d'oro se eri ricco, che ti veniva donata quando eri molto piccolo, che è esattamente la stessa tradizione che noi portiamo avanti nel meridione con le catenine d'oro al battesimo. Questa collana doveva essere presa apposta sugli altari degli avi, successivamente andavi in giro per la città con i tuoi genitori, dove le baccanti, che in realtà non si dovrebbero chiamare baccanti perché stiamo parlando di Liber, ma sono la forma delle baccanti che noi conosciamo, cucinavano delle torte di miele da offrire a queste famiglie. E per ogni torta comprata un pezzo veniva dato al dio Liber. Successivamente i ragazzi andavano tutti insieme a questa cerimonia, dove si toglievano la toga pretexa, che era la toga per i bambini, per i ragazzi, e si mettevano invece la toga virilis, che è la toga degli adulti, e in quel momento diventavano propriamente cittadini adulti di Roma, con il potere di un qualsiasi cittadino, diritti e doveri. È comunque interessante vedere come le varie tradizioni di un'unica giornata si siano portate nel tempo, perché come abbiamo visto Liber è la tradizione del giorno libero dedicato all'ubriagarsi, viene riportato così anche in Irlanda, sebbene non sia il vino la componente principale, bensì il whisky e altre bevande stagionate, questo perché in Irlanda la cultura del vino non è così radicata, soprattutto dai tempi in cui si festeggia la festa, adesso un po' di più perché c'è l'importazione, ma prima non era una cosa banale, poi la collana d'oro, che non si lega direttamente a Liber, bensì ai rituali dei ragazzi, che noi ancora abbiamo, e vagamente comunque c'è una tradizione in Italia, non so se da voi c'è, ma tenere una bottiglia di champagne, che viene regalata al battesimo del bambino, e poi questo dovrà perla durante il matrimonio, questa è una similtradizione pagana, ma soprattutto la torta di miele, perché a volte durante la festa di San Patrizio si fanno dei drink con whisky e miele, o comunque delle accompagnamenti di miele, per questo se volete festeggiare sempre trip days in maniera alternativa, pagana, o comunque per festeggiare le vostre origini italiane e romane, vi consiglio di cucinare una bella torta di miele, o dei cupcake di miele, e poi accompagnarli con del vino rosso. Vi ricordo anche che fra poco è Ostara il 20 che viene festeggiato quest'anno, e il miele ad Ostara è proprio uno degli elementi culinari di base di questa festa, e non è appunto una coincidenza, quindi che due feste così vicine abbiano un alimento culinario in comune, vi invito a riflettere su questa cosa. Noi ci rivediamo questo giovedì, con appunto un video dedicato ad Ostara e alle proprie tradizioni, oppure una ricetta per Ostara. Vi ringrazio tanto per il supporto e il sopporto, come potete vedere sto cercando di fare video più brevi, così potete goderne di più, perché so di parlare tanto, quindi il sopporto deve essere tanto. Noi ci rivediamo in un prossimo video, come ho detto, fra due giorni. Ciao ciao bimbi belli! Noi ci rivediamo in un po'